buon pomeriggio gentili spettatori il levante che è chiamato a vincere con cinque punti in classifica e occasione diciamo buona dato che contro di loro c'è spinoceto 70 a tre punti solo di distanza dalla squadra in maglia bianca quindi tutto pronto per una nuova partita la decima di campionato qui dal tiburtina valley fischia il direttore di gara inizia quindi l'incontro tra levante e spinoceto 70 incontro di serie c1 al girone a quello a tra la squadra in maglia bianca che attaccherà da sinistra verso destra e la squadra in maglia rosso nera e lo farà da destra verso sinistra in questo primo tempo più calcio d'angolo battuto adesso da milaroni la manda in avanti il numero uno lionetti e poi il bellissimo controllo e il gol subito della numero 11 arezzo gol del 1 a 0 per il levante quindi in vantaggio dopo un minuto e 13 passati dall'inizio del primo tempo numero 8 di raschi senti sulla battuta lascia poi a polzelli ancora cinti finte di cinti e c'è il gol del 2 a 0 il gol di matteo cinti siamo al sedicesimo e tre da giocare quindi tre minuti e 57 giocati 2 a 0 levante e gol di matteo cinti però che adesso sono due gol di distanza buono il recupero di scuderi a destra c'è cinti non riesce a passare il pallone al numero 8 può ripartire de rossi palla per pratesi cerca e trova vitelli il gol di vitelli 2 a 1 quindi la riapre spinaceto arezzo cerca di andarsene via in modo egregio cinti il tiro palla che va di poco fuori luca cinti la tocca di leonibus mette la palla a terra vitelli palla per il tiro di pratesi traversa anibus in avanti non la prende però natalini unity campoli meno di 10 secondi alla fine 5 adesso tiene campoli passa il pallone a arezzi poi finisce quel primo tempo fischia quindi il direttore di gara con l'osilio di il direttore di fascia 2 a 1 per il levante sullo spinaceto 70 in campo uno dei tre direttori di gara fischia all'inizio del secondo tempo tra levante roma e spinaceto 2 a 1 per la scuola di casa che si sistema con questo quintetto lionetti polselli arezzo cinti matteo e grossi invece il lo spinaceto si si scende in campo con di leonibus biraschi milaroni dei rossi e vittorini intanto grossi ancora matteo cinti servito arezzo buona la giocata poi si intreccia con grossi che la prende e la gira a polselli vediamo cosa fa doppio passo il tiro di sinistro palla che va fuori vitelli benzi chiude devia poi cerca di ripartire arezzo buona la palla recuperata benzi il tiro delle onibus e poi pratesi la mette fuori pratesi vitelli marrocco ancora pratesi sulla destra buona la chiusura di polselli che va via due contro tre adesso polselli giocata fantastica e gol altrettanto 1 3 a 1 esulta anche verso le nostre telecamere il numero 10 di messa laterale da sinistra batte cinti lascia campo li di leonibus la tocca ma la manda sul palo tirerà polselli contro delle onibus vediamo se riuscirà a fare doppietta il numero 10 ad allungare tre distanze partita polselli palla che va fuori di veramente nulla l'agostino per pratesi di rossi e finisce qui torna la vittoria il levante 3 a 1 per la squadra di casa su spinaciato 70